buonasera a tutti bentornati sul mio canale allora come potete immaginare dal titolo questa sera parliamo nuovamente di musica e abbiamo due ospiti di eccezione e in più anche sandro vi faccio subito vedere tutti gli ospiti così li salutiamo ciao ragazzi ben arrivati buonasera a tutti in più abbiamo anche draco e nick o naga che vedete nel ripadro più in basso grazie di essere qui stasera grazie a te grazie a voi per l'invito allora prima di iniziare a parlare della vostra musica dei vostri progetti che sono bellissimi e molto attuali per il momento che stiamo vivendo vorrei fare un piccolissimo accenno a quello che sta capitando visto che queste sono giornate tutte le manifestazioni che ci sono so che siamo tutti concordi e quindi so di parlare o anche per voi rispetto al supporto che vogliamo dare ai manifestanti portuali di trieste e non solo tutti gli altri porti la situazione a trieste è caldissima ci sono degli attacchi incredibili in questo momento da parte delle forze dell'ordine io ho visto dei video perché poi molte persone che mi seguono sono anche proprio di trieste tra le persone che stanno manifestando quindi ho avuto la fortuna anche di vedere dei video amatoriali girati da persone qualunque che erano in mezzo alla folla effettivamente c'è una repressione durissima io ho visto video in cui vengono lanciati lacrimogeni idranti acqua anche su scuole quindi su ragazzini cose assolutamente incredibili molti dicono che la fine della democrazia in effetti è assurdo quello che sta succedendo io voglio dare il mio appoggio a tutti quelli che stanno manifestando perché in questo momento stanno veramente cambiando la storia io vorrei che fosse chiaro che in questo momento quelli che stanno manifestando e non è un caso che anche una delle voci principali di trieste sia una persona che è vaccinata che al green pass e che quindi in teoria non dovrebbe avere nessun problema in questa situazione stia cercando di far valere i diritti costituzionali di ognuno di noi quindi il diritto al lavoro il diritto alla libertà di scelta il diritto di essere esseri umani e questo è importantissimo al di là del credo personale eh in relazione a questi trattamenti sanitari non è normale che ci sia questo genere di imposizione e la dimostrazione è che chi sta manifestando eh è una persona prima di tutto prima di essere etichettata come vax o no vax perché non è questo che sta capitando non è una guerra tra i vax e i no vax è eh la volontà di far valere i propri diritti costituzionali eh io ho sentito la dichiarazione di uno dei rappresentanti che eh appunto con il prefetto diceva di volersi confrontare non con dei parlamentari con dei parlamentari che oggi come oggi sono considerati completamente esautorati ma con dei ministri per poter ridiscutere il discorso sia dell'obbligo vaccinale che del no vax eh scusate che del green pass legato ai lavoratori e finché non avranno la possibilità di parlare con un ministro per ridiscutere questo tipo di discorso quindi raffrontarsi e rapportarsi al governo non si muoveranno da lì e questo è qualcosa di veramente importante perché sappiamo che è il caso di portare il focus su questo che il porto di Trieste è un porto super strategico per l'Europa per la Germania sicuramente Sandro questo eh lo può spiegare meglio di me quindi il fatto di bloccare il porto di Trieste vuol dire bloccare tutta una serie di approvvigionamenti anche legati eh ai carburanti e a tutto quello che è vitale per la Germania per l'Europa l'Italia si sta mettendo in una posizione importantissima e di scacco e questa mossa tra l'altro non è solo Trieste perché stanno dichiarando che tutti i porti d'Italia sono concordi e anche all'estero ci sono diversi porti all'estero che si stanno unendo all'Italia questo sta diventando un braccio di ferro che può veramente cambiare le cose cambiare le cose nella struttura geopolitica che stiamo vivendo ma anche cambiare il punto di vista di molte persone che si sono più o meno fatte andare bene tutte le imposizioni o pseudotali che il governo ha proposto ma che forse adesso vedendo dei manifestanti assolutamente pacifici essere trattati in questa maniera assurda può aiutare ad aprire gli occhi e a far cambiare il punto di vista questo era forse mi sono allungata un po' però credo che sia un cappello doveroso da fare perché stiamo assistendo a una mossa di scacchi visto che spesso facciamo il paragone con gli scacchi importantissimo in questo momento storico eh se ragazzi voi volete aggiungere qualcosa ovviamente eh la parola è anche vostra visto che siete ospiti e Sandro anche scendi il microfono Sandro vai quello che quello che vorrei un attimino anche solo brevemente dire che anziché vedere eh un unione tra le persone si vede sempre di più una divisione un giudicare un criticare tutto quello che magari potrebbe essere una cosa positiva invece a priori si va giù a martello a criticare tutti senza ragionare purtroppo si vede questo vedremo gli sviluppi non credo ci sia niente da aggiungere se non che non bisogna creare del tra virgolette razzismo verso qualsiasi tipo di scelta o di credo o di eh propria volontà perciò se uno la pensa in un modo è libero di pensarla in quello se è libero di eh o totalmente il contrario qualsiasi tipo di polemica o di discriminazione non credo sia mh eh a favore di eh creare qualcosa di nuovo di migliore o di bello appunto diciamo che bisogna cercare di tutelare la propria libertà e diritti fondamentali questo è essenziale ed è questo quello che si sta facendo ok eh qui ancora tutti che chiedono di Draghi ovviamente se stasera ci mettiamo a parlare di Draghi non parliamo dell'argomento della serata e quindi non mi dilungherò in questo Draghi non ha fatto dichiarazioni e in questo momento quello che sta capitando è una mh chance un'opzione per poter modificare quello che fino a qualche giorno fa sembrava immodificabile cioè l'obbligo eh sia del Green Pass che del vaccino per tutti i laboratori andiamo a vedere come si svilupperanno le cose e come si comporterà il governo vista questa mossa di forza e poi vedremo anche che cosa farà Draghi è molto facile dare dei giudizi rispetto a quello che si vede ma io ricordo come ho ricordato tante volte che non è Draghi a decidere tutto quello che il governo dice che poi possa appoggiare o non appoggiare alcune mosse nell'ipotesi che poi vengono fuori delle altre cose questo lo vedremo nel tempo bisogna avere sempre un occhio un pochino più critico e non precipitarsi in giudizi perché spesso ci si sbaglia soprattutto in un'epoca come questa in cui tutti stanno giocando di sponda e non sempre le cose che dicono sono esattamente quelle che vogliono fare con questo chiudo perché ovviamente se no parliamo solo di questo quindi poi se invece Sandro vuole dire ancora qualcosa sull'argomento no non voglio parlare di queste cose qui perché magari si potrebbe fare una possiamo fare una live tu ed io leonora però adesso vorrei dedicarmi un attimino a questi a questi due ragazzi sono qui con noi questa sera sono nostri nostri ospiti con molto piacere introduco un attimino avuto l'opportunità di conoscere eh Naga e Draco proprio il trenta di settembre in una in una serata molto bella eh è stata organizzata per un gruppo di eh di ragazzini un gruppo di ehm età elementari quindi dieci otto dieci anni un gruppo eh delle medie quindi undici e tredici è stata una bella serata tra l'altro Naga lo ehm ha condiviso anche quella serata nel suo Facebook e anche Instagram eh e ho visto questi due ragazzi soprattutto Naga molto commosso quella sera e così dopo la serata ci siamo messi a parlare noi tre eh Naga e Draco e mi hanno raccontato tante cose ed è mh sono due ragazzi come prima cosa sono due ragazzi che sono amici proprio stretti amici Naga mi ha raccontato alcune cose che fa capire cosa significa l'amicizia veramente il il volersi bene come come amici come come amicizia come eh spalla come supportarsi l'uno l'uno con l'altro Naga ha un passato sappiamo anche la canzone che lui ha inciso veleno e anche draco ha un suo eh passato un po' particolare e ehm li lega questo questo li lega moltissimo e quando mi è stata girata da una una signora di vicino vicino a Carpi mi ha girato non a me ma ha girato il il link di YouTube alla alla mia compagna quando ho ascoltato eh la la canzone ho girato immediatamente il la stessa canzone lo stesso link a veleno e dopo lì sappiamo insomma che abbiamo divulgato eh questa canzone in praticamente tutti i canali e social che noi abbiamo a disposizione ed è stata anche una sigla tra l'altro di alcune puntate live che abbiamo fatto con la radio quindi abbiamo eh divulgato questa canzone con molto ma molto piacere perché insomma molto forte sono delle parole molto forti e magari se Naga la vuole un attimino dare qualche qualche informazione in più su questa canzone sì allora intanto volevo salutare tutti quanti come ho fatto anche prima ma il fatto è che questa canzone che ho scritto è stata forse una delle canzoni più importanti che ho fatto anche perché ho voluto dare modo in primis a me stesso eh di poter raccontare apertamente a tutti quanti quello che ho passato io in parte e soprattutto l'intento che avevo era quello di arrivare a tutte le persone che avevano vissuto situazioni simili alla mia e soprattutto a mie alle mie sorelle ok primis a mia sorella Stella che è stata una delle sorelle che mi è stata tolta quando io avevo sei mesi a causa comunque di accuse che sono state fatte ai miei genitori biologici no e accuse di pedofilia accuse di satanismo quindi insomma la storia è molto lunga e penso che molti la conoscano e da quando siamo stati separati fino all'età di 19 anni vent'anni io non ho mai avuto notizie di nessuno fino a quando in primis non mi si è fatta sentire per prima mia sorella Elena che da lì mi ha iniziato un po raccontare tutto quanto no quindi quello che era successo il perché i nostri genitori erano andati in carcere il perché mio padre ha fatto 11 anni di carcere e che io non sapevo nulla appunto di loro perché avevo sei mesi quando sono stato tolto da quella famiglia da lì ho iniziato in primis per paura rinnegare il fatto di avere delle sorelle biologiche il fatto di avere un passato simile no fino a quando poi non mi sono fatto forza non mi sono fatto il coraggio di voler ascoltare tutto quello che era la storia tutto ciò che mia sorella aveva da raccontarmi da lì mi sono fatto a grandi linee un'idea di tutto quanto ed era talmente tanto grosso il carico che il carico emotivo che ti dava questa questa notizia che ho deciso di scrivere tutto quello che provavo su un foglio che avrei voluto poi successivamente registrare però ci sono stati veramente tanti alti e bassi durante la scrittura di questo testo perché comunque non è stato facile trovare le parole giuste per poter raccontare tutto quanto e infatti mi sono trovato in situazioni in cui non sapevo più che cosa dire non sapevo più che cosa raccontare perché mi mancava appunto forse un piccolo pezzo forse il pezzo finale di tutta questa storia che mi portava a scrivere appunto le ultime righe ok del del testo che per concluderlo io mi ricordo che questa canzone qua è stata conclusa definitivamente e lo stesso giorno in cui io sono andato a roma nella sede della rai insieme a mio padre biologico federico che avevo ritrovato dopo la bellezza di vent'anni e per appunto fare una delle tante interviste che abbiamo fatto insieme e durante l'attesa di ben nove ore all'interno dei salotti della rai lui mi ha iniziato a parlare un po della di quello che succedeva quando era in carcere del fatto che guardava quelle tre stelle sempre lì in cielo anche nei giorni più brutti e lui si immaginava che quelle tre stelle erano i suoi figli ed è quello che l'ha portato ad andare avanti in quegli dici anni no allora da lì mi si è scusa quella scintilla che mi ha fatto dire cavolo perché non posso concluderla in questo modo qua appunto raccontando dell'ultimo pensiero che aveva prima di andare a dormire mio padre quando guardava fuori dalla finestra e alla fine ho deciso di scrivere quelle tre righe finali che appunto dicono di c'è chi dentro di una cella vede un po più in là e che presto ritornerà comunque nella società no nel senso lui è per 11 anni non ha più potuto vedere le strade della società non ha potuto vedere le persone che conosceva però con la stessa persona che era lì all'interno di quella cella ogni tanto guardava fuori e si immaginava quando un giorno mi avrebbe rincontrato capito quindi questo è quello che ho voluto raccontare all'interno della canzone questa violenza di questa di questo torto che tra virgolette c'è stato fatto a me e alle mie sorelle che in primis non hanno mai dato la possibilità a noi di poterci vedere di poterci conoscere soprattutto del sapere dell'esistenza l'uno dell'altro quindi questa questa cosa qui non mi è mai andata giù questa rabbia perché io fino all'età di 19 anni non sapevo nemmeno di avere tre sorelle biologiche io mi ricordo che andavo a scuola quel pomeriggio lì perché facevo un rientro alle superiori quando mi è arrivato quel messaggio da quella persona io mi ricordo che dopo non sapevo più non riuscivo più a guidare tremavo avevo mi era venuto un attacco di panico allucinante e quel ragazzo che era con me era quel ragazzo che è qui appunto stasera come ospite lo ricordo bene io sono io sono arrivato lì che ho fatto vedere le foto della ragazza che mi aveva scritto ai miei amici io l'ho guardato ho detto cavolo ma questa ragazza sembra a me con i capelli lunghi cioè mi sono visto io praticamente da donna è stato stranissimo di giù sembravo sembravo io veramente versione donna e non riuscivo a controllare quell'emozione che avevo cioè non ci volevo credere ero incredulo su questa cosa qua la gente che mi diceva dai non ci credere che tanto non è lei poi invece c'era chi mi diceva cavolo ma siete uguali cioè nella mia testa avevo una confusione tale che quel giorno lì al pomeriggio a scuola non ho concluso niente per due ore sono stato assente con la testa praticamente ero lì fisicamente ma con la testa ero assente quindi questa cosa mi ha mi ha scioccato parecchio per per un bel periodo fino a quando poi alla fine con l'uscita di questa canzone non sono riuscito a dare voce a quello che provavo e quindi automaticamente anche a liberarmi a liberarmi di quel peso che mi sono portato dentro per troppo tempo quindi per questo per me la musica è un quel mezzo importante per poter arrivare a più persone possibili in maniera molto diretta e senza filtri tutto qua scusa scusate un attimo siccome ho visto questo messaggio c'è Angela che ti dice che storia un abbraccio naga sono una nonna mi stai commovendo e penso che siano tante le persone che sentono le tue parole risuonare all'interno perché sono molto forti si sente che tu hai vissuto una storia incredibile che tra l'altro chi mi segue ho raccontato era la storia della bassa modenese sul mio canale anche in concomitanza con il la serie televisiva su netflix veleno che tra l'altro è uscita dove vabbè forse tu potrai dirci meglio quanto sia stata rielaborata e quanto possa essere bene diciamo che guarda ti dirò la verità io non avendo però mai conosciuto i personaggi che alcuni dei personaggi che erano all'interno della serie io non li ho mai conosciuti di persone non ho mai avuto la possibilità perché comunque anche con il fattore covide c'è stato il periodo in cui eravamo tutti in lockdown tutti chiusi e quindi non potevamo muoverci però ti dico io posso dare una mia impressione su quello che comunque è stato il montaggio per le parti in cui ha parlato mio padre e mia madre no e ti posso dire che veramente lì si sono messi a nudo senza filtri anche su quegli aspetti che in vent'anni comunque di dove si parlava di cronaca nei telegiornali non sono mai state dette e all'interno di quella serie tv lì ci sono andate a toccare dei punti e determinati dettagli che io in primis durante le interviste quando le sono andate a fare a roma comunque in giro ho sempre cercato di evitare per il semplice fatto che avrei toccato un tasto dolente per una persona che è a me molto cara cioè mia sorella ma lì all'interno della serie mio padre si è veramente aperto in tutto e per tutto raccontando tutto quello che era successo a lei e cose che prima di allora non era mai stata detta da nessuna parte quindi quella è stata proprio una la prima volta per tutti quanti che nemmeno io mi aspettavo perché io mi ricordo che quella sera lì il giorno in cui è uscita la serie che era il 5 di maggio credo no il 25 5 di maggio non ricordo di preciso e io mi ricordo che era mezzanotte appena uscita la serie mi sono messo lì davanti alla televisione con la mia ragazza a guardarlo io a metà della prima puntata dove appunto parla federico io non riuscivo io stoppavo la serie ogni tre secondi perché non riuscivo ad andare avanti certe scene mi hanno mi hanno lasciato un segno talmente forte che i giorni dopo in cui ho rivisto federico io controllavo se quei segni sulle braccia a quei tagli che si faceva davanti ai cancelli delle del tribunale di bologna o comunque ovunque in mezzo alla strada insieme a mia madre fossero veri cavolo io ho visto le cicatrici sulle braccia di mio padre segnato dal dolore della perita dei suoi figli a tradimento proprio tolti davanti ai propri genitori nel momento in cui vengono presi e portati all'interno di una cell non di una cella di un di un ufficio di un commissariato comunque presi e nel momento in cui loro ritornano per prendere i propri figli non ci sono più se io fossi stato mio padre all'interno di quella di quegli uffici io probabilmente avrei ucciso qualcuno infatti io non quelle scene lì a rivederle oggi fanno lo stesso effetto della prima volta che ho visto la serie e io quando me lo raccontava di persona quelle i primi giorni che ci siamo visti io non ci credevo non ci credevo che della gente così potesse esistere davvero su questo pianeta ma cavolo andare a toccare dei bambini e togliere dei bambini a dei genitori che sono lì indagati e presi portati in questura alle tre del mattino ok che non sanno niente di quello che è successo non si immaginano tutto quanto hai capito gli vengono tolti i figli così a tradimento di sorpresa cioè non non hai avuto modo di elaborare questa cosa quindi questa cosa qua a me mi dà veramente da fare io ho una rabbia dentro che a parlarne adesso io veramente ci fosse dall'altra parte qualcuno che è stato colpevole di queste cose non so che cosa farei però purtroppo queste sono cose che sono emozioni che mi porto dentro io una rabbia che mi porto dentro io ma soprattutto la rabbia più grossa che che ho è per il fatto di mio padre che dopo undici anni nonostante ci siano tantissime prove che dimostrino che tutto ciò non è mai successo a me alle mie sorelle quelle violenze che descrivevano su quegli atti nel tribunale ok che descrivevano come violenze sessuali su noi bambini figli non sono mai esistite non ci sono prove dicevano che mia sorella non avrebbe più potuto avere dei figli adesso ne ha tre cioè capisci e nonostante tutto la revisione del processo gli è stata negata cioè è una cosa è una cosa incredibile io per avere per dare giustizia a mio padre non so scaravolterà il mondo questa canzone per me è stato un modo per cercare di abbattere quel piccolo muro piccolo ma grande muro di che c'è su questo sistema malato che racconta anche nella canzone un'italia marcia che per me ha rovinato la vita di tantissime persone ma non solo con noi della bassa modenese ma anche con i casi più recenti come a bibbiano come tutti quei casi che ci sono stati qua in zona o comunque in giro per l'italia e nel mondo quindi a me pensare che della gente vada a mangiare su cioè a mangiare sulla testa dei bambini comunque sui bambini a guadagnare dei soldi su dei bambini a fare delle cose del genere rubare i genitori con delle accuse stupide veramente stupide cioè per me non non dovrebbero mai essere perdonate persone così se tu vai a rovinare delle vite delle vite di persone che non c'entrano niente quindi per me adesso staremo a vedere se il processo andando in cassazione questa cosa avrà un buon fine un lieto fine oppure no però comunque io tengo incrociate le dita e speriamo in bene sì comunque le vostre vite sono state fortemente segnate per non dire rovinate di tutti voi ragazzi e dei genitori quindi indipendentemente dall'esito del processo che questo sicuramente può ridare dignità alla vita di tuo padre e alla sua immagine ma in ogni caso il danno è così grande quel danno che è stato fatto che non si può far finta di niente e oltretutto purtroppo come tu stai dicendo questa realtà esiste in maniera molto più diffusa di quello che si immagina ed è importantissimo che sia proprio tu a parlarne qui stasera perché sei una persona che l'ha vissuto sulla sua pelle io l'ho vissuta purtroppo l'ho vissuta sulla mia pelle ma la rabbia più grande è stata anche il fatto che nessuno ma ha mai detto nulla di ciò che è stato di quello che è successo quelle 7 luglio del 97 no neanche i miei genitori adottivi questa cosa purtroppo loro non ha dato modo di potermi raccontare le cose gradualmente durante comunque la mia crescita no fino comunque ai 18 anni ai 20 anni capito non ha mai dato modo loro di potermi raccontare il perché sono arrivato lì come sono arrivato lì per quale motivo io i miei genitori biologici non si sa dove sono hai capito il perché come mi sono sempre domandato quando ero piccolo perché io gli ho chiamandoli rispetto agli altri bambini che mi prendevano in giro hai capito io non sapevo nemmeno di che nazionalità fosse che per metà sono italiane per metà sono thailandese non sapevo niente io finivo che faceva botte ogni tre per due a scuola perché la gente mi chiamava cinese quando io volevo essere semplicemente un ragazzino uguale agli altri ora come ora come ora il fatto di accettare che o gli ho chiamandoli la gente mi abbia sempre chiamato cinese 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 cosa che anche il caro draco faceva per scherzare ma comunque lo faceva io molte volte all'inizio volevo prendere la testate però sono buono e visto che ho un mio grandissimo amico sempre evitato ma gliela gliela avrei data a voi ora come ora ci scherzo su ci rido su però il fatto che non abbiano mai detto niente a nessuno ha dato modo anche a me di vivere fino ai 19 anni fin quando non ho conosciuto mia sorella Elena col punto di domanda su da dove vengo io io l'ho scoperto a 19 anni che io ero thailandese per metà e per metà italiano mi diceva che ero peruviano che ero brasiliano che ero cileno non so dicevo dove ci sono trovati se uno è italiano nelle favelas in brasile non lo so hai capito cioè mi facevo mille domande ci dicevo come ho fatto a trovarsi lì in viaggio che ne so magari sono venuto fuori così dal nulla un'avventura non lo so questo era quello che mi domandavo io però alla fine all'età di 19 anni dopo che ho scoperto tutto quanto io ho iniziato ad accettarmi per come sono il fatto di dire che ora sono thailandese per metà io ne vado fiero anzi l'ho reso un mio punto di forza il fatto di essere cioè di sentirmi non del tutto italiano quando prima volevo essere uguale a tutti quanti il fatto di averli occhi amando la ora per me il mio punto di forza perché vado a vedere quelli che erano i miei difetti per gli altri e li trasformo in quello che magari può tirare l'attenzione cambio il punto di vista sulla cosa tutto qua però io davvero il fatto che quando ho fatto appunto quella serata dove ho conosciuto sandro per la prima volta che è stata la serata dove mi avevano invitato per andare a cantare questa canzone davanti ai bimbi quando sono arrivato lì che ho visto sti ragazzini divisi in gruppi di maschi e di femmine con questi quadernini in mano il maestro di musica che mi guarda e mi dice abbiamo fatto una sorpresa per te te la vogliamo fare questo regalo qua cavolo si parte la canzone e i bimbi che sotto cantano la canzone e cantano il ritornello io ti dico avevo la pelle d'occhio io sono rimasto zitto mi stavo commuovendo questa cosa per me è stato bellissimo perché io quando sono stato tolto dalle mie famiglie dalla mia famiglia ero un bambino ho scritto una canzone che porta all'interno delle emozioni che porto dentro da quando ero bambino fino adesso che sono diventato grande e sentire dei bambini che la cantano mi dà la pelle d'oca ora parlarne ho la pelle d'oca anche adesso quindi è stato talmente questo l'avevo adesso anzi lo dico qua a tutti quanti quando ho saputo che veniva e che insomma c'è stato un po di non mi hanno nascosto un po il tutto in casa mi hanno nascosto questa cosa che naga veniva e anche gli admin perché gli admin sapevano ok più di qualcuno sapeva degli admin e delle nostre chat e sinceramente sono rimasto spiazzato perché dopo ho scritto alla paola grazie potevi almeno darmi un accenno che c'era che veniva naga che c'era un qualcosa dietro perché addirittura sono stati invitati in qualche maniera chi almeno è vicino di venire è stato infrasettimanale questa cosa qua e dopo naga non l'ha pubblicato il video perché avevo fatto una registrazione video col telefono e c'era naga praticamente molto ma molto emozionato che aveva beh posso dire un po le lacrimucce agli occhi sì 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 no ce l'avevo ma dato che non mi voglio far vedere piangere sono così io purtroppo cioè non mi vede piangere neanche mia madre io piango piuttosto scappo di casa piango e torno cioè ho cercato di tenere lì hai capito però sono stato talmente emozionato che è una cosa incredibile indescrivibile infatti tu anche nel video che tu hai pubblicato su facebook e su instagram sul tuo sui tuoi account tu eri praticamente a ridosso dei ragazzini no che c'è anche si vede il disegno che ti hanno fatto c'è quella quella cosa che tu tra l'altro è appeso in ma in camera tua o nello studio in studio adesso sono in studio e io ero contro anche stavamo parlando no praticamente ha raccontato che tu i mesi che eri insomma effervescente carico questa cosa qui no proprio ne parlavi spesso di questa cosa che ti hanno chiesto e poi tra l'altro questa cosa qui questa come posso dire questa questa iniziativa è stata fatta dalla carmela la mia compagna tra l'altro ecco e quando ti ha scritto e ti ha contattato insomma ti ha un po' sorpresa questa cosa qui e si vede infatti un draco no a un certo punto mi fa non riuscivo più a tenerlo a tenerlo fermo perché è euforico su questa cosa qui sì perché mi metteva sotto pressione il fatto di dover parlare o relazionarmi comunque con dei ragazzini o dei bambini il senso viene molto più semplice parlare tra persone un po più della stessa età hai capito piuttosto che quei bambini dici cavolo e come li come li tengo cioè se tu mi metti a me in mezzo a un asilo o comunque a una scuola elementare io non so piuttosto mi faccio prendere a calci davvero scappo non lo so non saprei come comportarmi cioè se inizi a piangere uno ma vado nei matti poi mi inizia a fare mille paranoie io non ci capisco più niente giuro perché per me già con i miei nipoti io non so cioè i miei nipoti vabbè quando piangono li prendi li metti a giocare da un'altra parte ok ma quando sono i figli di qualcun altro è molto più difficile hai capito non ti ascoltano come potrebbero ascoltare uno zio però tu hai un grandissimo strumento che è quello della musica con il quale sei in grado di coinvolgere di comunicare di entrare in relazione con loro che per te è forse la tua maggiore forma espressiva visto che è quella che hai scelto per dar voce a tutta questa esperienza enorme che ha avuto che tra l'altro per noi adesso lo dico a chi ci segue questa è una serata molto particolare perché oggi è un giorno particolare oggi è il compleanno di fabrizio quel nostro amico avvocato che molti di voi hanno conosciuto sul nostro canale sui nostri canali anche su youtube sul mio che si è sempre occupato di lottare contro la pedofilia e per aiutare proteggere i bambini quindi assolutamente all'interno di questo discorso e credo sia questo il motivo per cui vedo che sta per entrare anche veleno che faccio entrare ciao veleno eccomi qua credo che l'argomento abbia coinvolto anche te ovviamente veleno scusa è la voce emozionata io sono come laga non voglio farmi sentire piangere in pubblico però vorrei abbracciare tantissimo naga perché la rabbia che lui ha dentro è quella che c'è anch'io da quella vicenda è quella che aveva anche fabrizio perché nonostante tutto anche noi siamo trovati contro un muro di gomma perché non c'era nulla di quello che veniva detto e hanno distrutto i bambini e le famiglie su nulla su nulla ok per dar retta a una cooperativa di psicopatici che aveva capito come fare il business e che ne ha inventate di tutti i colori e ancora oggi noi abbiamo che fare con della gente del genere perché non è finita purtroppo sì infatti io ti dico la verità ritornando al un attimo il discorso della della serie di veleno io che ho sbagliato io ho detto netflix invece era amazon scusate ritornandosi al discorso comunque della serie della serie tv se ci avete fatto caso che comunque la guardata che ha avuto la possibilità di vederla e non ha un come posso dire da modo al allo spettatore a chi guarda questa serie tv di poter decidere con la propria testa ok chi secondo lui ha più ragione all'interno della storia perché il produttore comunque il regista ti ha messo davanti quelle che sono le voci le testimonianze di quei ragazzi che dicono che non è vero e hanno messo anche dall'altra parte le le idee le opinioni di quelle persone che dicono che in realtà invece è successo tutto quanto faccio ad esempio un nome che l'ha messo anche comunque nella serie valeria donati la psicologa che era quella che ascoltava i bambini no che era quella che diceva vista sui social comunque ho sentito parlare un po di lei dove diceva che tutti quelli che erano quei ragazzi che all'epoca erano della dei fatti della bassa modenese erano stati tutti trattati bene comunque hanno fatto tutto quanto per il loro bene eccetera 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 no io in quello che ha raccontato non ci ho mai visto un filo di verità vero no e quindi io conoscendo un po la storia io do la mia la mia idea su tutto quanto non sono di parte solo perché mio padre federico scotta che è quello che ha fatto undici anni di carcere ma ti dico che secondo me veramente dopo questa serie tv qua ho avuto la possibilità di capire ancora meglio quanto è malata questa società con certe persone che comunque fanno il loro lavoro dicono in pubblico di farlo bene in realtà sotto hanno la coda di paglia hai capito hanno la coscienza sporca però davanti agli altri vogliono fare quelle persone brave quelle persone che per loro è tutto a posto e tutto va bene così questa è stata solo la mia una piccola idea che ho io quanto è malata secondo me questa società tutto qua che ci sia in mezzo a tutto quel marasma di persone che sono state coinvolte che qualche caso vero ci fosse sì su quello sì sicuramente sicuro c'è sicuramente nel senso io non conosco gli altri capito io mi baso su quelle persone c'è nel senso i fatti sono magari successi magari no chi lo sa io parlo per quello che so io per quanto riguarda mio padre riguarda le persone che comunque ho attorno che c'entrano con questa storia quello che io non ho mai capito perché tuo padre si è beccato 11 anni di reclusione io ricordo ancora la faccia dei tuoi genitori e gli 11 anni di carcere di mio padre lui se li è beccati purtroppo perché è molto lunga come storia nel senso dovrei partire dal primo bambino il bambino zero dalle prime testimonianze che ha fatto quello che diceva quello che raccontava però sarebbe vero come detto prima molto lunga da raccontare stare qui delle ore però il fatto che mio padre si è beccato questi 11 anni di carcere è stato soprattutto perché era stato accusato di aver abusato dei propri figli di aver portato i propri figli nei cimiteri la notte avergli fatto ammazzare dei gatti avergli fatto bere il sangue dei gatti tutto questo però raccontato da dei bambini capisci quello che voglio voglio dire ma chi ha raccontato queste cose i bambini bisogna andare a vedere i bambini hanno raccontato queste cose però le hanno raccontate quelle persone che erano i loro psicologi loro allora allora tutor quando sono stati allontanati dalle famiglie hai capito bisogna vedere che cosa succedeva dietro dietro le quinte perché durante durante la serie tv ti fa vedere delle riprese di quello che è successo ok di quelle non è mai stato trovata nessuna prova che confermasse quello che affermavano i psicologi perché se tu fai una certa cosa in un cimitero prima o dopo qualcuno ti vede le tracce di sangue rimangono ci sono non c'è mai stato nulla niente non è mai stato non è mai successo nulla e c'è chi dice che ancora oggi le cose sono successe cioè quello è quello che mi fa scusate adesso ma c'è anche gente che dice lo dico proprio papale papale non me ne frega niente di quello che è successo bibiano non me ne frega niente di quello che tu sai di bibiano sento anche questo dire questa gente scusa minaga questa gente che vuole nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi io spero non abbia mai dei figli perché pensare che può succedere una cosa del genere a un bambino no sono genitori ecco ti devono vergognare sono perché non l'hanno vissuto perché non sono quelle non sono loro i diretti interessati questo ti fa capire che che persone ci sono in giro egoiste pensano loro stessi finché stanno bene tutto a posto poi quando succede a loro scatenano il finimondo no però prima ma succede ancora oggi questo è quello ma succede ancora oggi mi intrometto ma non l'hanno vissuto o non l'hanno vissuto loro o addirittura una loro un loro amico caro o un loro parente un loro conoscente perché io avendolo vissuto in maniera trasversale attraverso naga non lo vorrei mai vivere sulla mia pelle e non l'ho vissuto io sulla mia pelle da dire l'ho vissuto io non lo voglio riprovare ho visto come c'è stato lui ho visto come c'è stata la sua famiglia ho visto come ci sono state altre persone come lui ha perso delle sorelle io non vorrei perdere mia sorella non vorrei perdere mio figlio non vorrei perdere mia figlia e questo forse il problema è che non l'hanno vissuto in prima persona o addirittura vicine poi scusate se mi sono intromesso ci mancherebbe anche comunque anche dracco comunque anche tu hai avuto hai un tuo passato particolare io sì sono figlio di due separati purtroppo nella vita ci si può separare bene ci si può separare male e i miei non si sono separati nella nella miglior nel miglior modo all'inizio per quanto potevo capirne a 14 anni ho visto due genitori che si scontravano con con me in mezzo quindi mi sentivo io la causa di tutto e purtroppo mio padre ha sempre fatto leva su quello sulla mia fragilità e sul fatto che io potessi essere effettivamente il problema che tutto girasse intorno ai soldi e girasse intorno al fatto che io dovevo farmi rispettare quando era lui il primo ad usarmi e portavo dentro tutto non ne avevo mai parlato non ho mai chiesto chiarimenti addirittura ai diretti interessati mi sono sempre limitato a ascoltare portare dentro e tenere tutto poi grazie a maestre d'italiano a professoresse mi hanno sempre incitato a scrivere perché mi piaceva un sacco quando si faceva letteratura poesia e mi piaceva scriverle mi piaceva ascoltarle mi piaceva capirle e mi piaceva anche giocare a riprovare a farle a provare incastrare diversi significati a scrivere qualcosa che per altri potesse non avere un senso però per me ce l'aveva perché poi andavi a fare come poesia la prosa di quello che c'è scritto andare a capire il perché uno ha scritto una determinata cosa ed è sempre stato quello che a me ha intrigato fin quando alle superiori non ho incontrato naga perché l'ho conosciuto in terza superiore quando da guastalla mi sono trasferito a modena e sono andato a maranello a studiare l'ho incontrato lì e lui aveva già un buon passato alle spalle da cantante e avrà visto qualcosa cantante fai musica cantante ci provavo dai ottenevo qualche risultato però ci provavo e forse ha visto qualcosa in me mi ha detto ma perché ti limiti solo a scriverlo prova a metterlo su una base prova a dare sfogo invece che solo scriverla prova a farla arrivare ad altri e quello è diventato quello che io effettivamente volevo fare volevo riuscire a trasmettere agli altri quello che ho provato io quello che possono aver provato tante altre persone come me ovvero non sentirsi accettati sentirsi il problema magari tra due persone che hanno litigato essere continuamente bullizzati a scuola perché tua madre se n'è andata per colpa tua e i tuoi non ti vogliono guarda cosa hai fatto alla tua famiglia far capire ai ragazzini e in fondo mi ricollego anche al discorso di prima naga quando ha saputo di doversi esprimere davanti a dei bambini è andato su tutte le gioie anche per questo perché alla fine la musica è per i ragazzini è per i ragazzini per i bambini i bambini devono apprendere questo i grandi ormai l'hanno capito la maggior parte dei grandi ovvio la maggior parte dei grandi ma io alla fine dei conti l'hanno già capito quindi cosa fai tu lo fai per i ragazzini in modo che possano capire e fare loro quella cosa ed evitare tutto quello che ha vissuto un'altra persona quindi fare la musica per gli altri non per se stessi ma per gli altri per trasmettere qualcosa ed è quello che spesso purtroppo ora non vedo in molti vedo in alcuni io alla fine dei conti poi comunque vedete che qualcosa che ci accomuna a me a draco cioè nel senso entrambe abbiamo un passato determinato tipo di passato e entrambe abbiamo la passione per la scrittura io lo riuscivo a esprimere molto meglio su una base invece riusciva molto a posso dire esprimersi meglio nella scrittura nella semplice poesia infatti quel giorno di scuola lì dove io e lui ci siamo conosciuti per la prima volta inizialmente non ci non ci consideravamo dei dei grandi amici capito semplici compagni di classe proprio quando iniziato a capire che lui era bravo perché nella scrittura ha partecipato anche al concorso di poesie penso della scuola aveva pubblicato delle sue poesie sul libro della scuola sì da lì da lì ho iniziato a capire che quello che aveva da raccontare era tanto e soprattutto riusciva a farlo con dei termini giusti nel senso riusciva ad arrivare non era uno di quelli che scriveva due cose tanto per hai capito lui era proprio bravo nella scrittura e quel giorno in cui ho provato a buttargliela lì il fatto di volerla metter su musica tutto quello che provava penso di aver fatto la cosa più bella di questo mondo perché lui in primis l'ho visto che era era entusiasta di fare questa cosa qua e l'inizio poi sicuro proprio iniziato a prenderci un po la mano e quando per la prima volta l'ho chiamato in questo studio e cercato di aiutarlo nel realizzare questo suo sogno ovvero di realizzare delle canzoni l'ho visto la persona più felice di questo mondo giuro l'ho visto al settimo cielo e da lì abbiamo iniziato inizialmente sai a vederci solo per la musica fino a quando poi il vederci per la musica è diventato quasi tutti i giorni voleva sempre provare a fare della roba nuova allora da lì abbiamo iniziato alle gare sempre di più finché non siamo diventati dei grandi amici il fatto che però era pesante averlo tutti i giorni a casa perché voleva imparare a fare musica ma chi lo sopporta c'è lo sopporti tre ore poi vuoi mandarlo fuori di casa ti giuro però però cosa fai è un amico un amico non gli volti le spalle non avrei preso l'avrei buttato fuori perché mi diceva così amo va bene così non senti questa adesso la faccio meglio e non andava più a casa ti giuro non voleva più andare a casa però alla fine ho visto che dopo tanto tempo che ho passato a spiegargli le cose cercavo di indirizzarlo su determinato stile di musica e ho notato che lui si impegnava tantissimo cavolo all'inizio la prima canzone che ha fatto non ti dico ho pianto da ridere perché la nomina non nominarla ho pianto veramente da ridere ti giuro è stata è stata una comica per registrare con lui erano più le volte non esiste più eh l'ho bloccata la bloccata perché la base l'avevo fatta io la canzone l'aveva fatta lui io facevo schifo produrre lui faceva schifo a cantare cioè veramente da buttare via sembrava una barzelletta due ragazzi appassionati di musica fanno musica ma fanno schifo cioè nel senso c'era questo io ero bravo solo a cantare alla certa detto ascolta prendi una base da internet prenditela compra te la registra su quella perché io facevo veramente schifo però alla fine ho visto che lui si impegnava si impegnava si impegnava e alla fine otteneva sempre dei risultati è arrivato a un punto dove non riusciva a chiudermi due rime una dietro l'altra adesso ti fa dei testi dove non ne sbaglia una dove io mi giro lo guardo e gli dico ma l'hai scritta veramente tu l'hai fatta scrivere da mogol cioè nel senso per farti capire perché non ci credo che l'abbia scritta lui dopo quello che dopo quello che ha scritto così bello dico cavolo ha fatto dei passi da gigante quindi questa cosa ci ha portato ad essere sempre insieme a condividere la passione per la musica a creare un legame talmente forte per qualsiasi problema se lo chiamo lui corre da me io faccio uguale che ti posso dire lui l'ho conosciuto in terza superiore amici che conosco da quando avevo sei anni non farebbero mai le stesse cose che lui farebbe per me e quindi io ti dico che quando mi dicevano i veri amici li conti su un palmo di una mano io quella mano adesso è diventata un dito io solo da un dito non riesco a capire chi ho come vero amico se no ce ne saranno tre come ti ho detto la prima volta che ci siamo visti sandro te l'ho detto per me gli amici sono veramente pochi lui è uno di quelli lui è uno di quelli io ne ho tre di amici e basta gli altri io avrei preso un pugno per quelli che erano i miei amici che consideravo tali loro per me non avrebbero fatto neanche una cavolata non avrebbero fatto niente invece per me samu lui fare veramente di tutto l'ho notato dalle piccole cose e piccoli momenti di difficoltà che io ho avuto come ti ho poi raccontato discorso di brutti brutti vizi e dipendenze purtroppo dove io ho dovuto combattere per un po di tempo un bel po di tempo samu draco in questo caso è stata la prima persona che ha avuto il coraggio di venire da me in certe situazioni e riuscirmi a fermare c'è una di quelle situazioni in cui tu prenderesti chiunque davanti a te lo riempiresti di botte e lo lasceresti lì mezzo vivo e mezzo morto non sai come messo però un cartone te l'ha tirato un cartone me l'ha tirato ma in una sera si un cartone glielo tirato un cartone un cartone me l'ha tirato una sera scusa naga aspetta però tutte le volte che io lo bloccavo in studio come per dire aspetta senti questo va bene questo ok però tutte le volte che stavo io ad ascoltarlo non le racconta ma per te lo seduce dello psicologo sì qui lo faccio parlare perché non mi è mai piaciuto dire no che non mi è mai piaciuto dire tu questo non lo devi fare lui è sempre stato uno di quelli visto comunque anche altri ambiti sempre ascoltare cercare di far capire tutto qua quindi mi fermavo anche una due ore per questo infatti lui quella volta che appunto mi ha tirato quel famoso cartone che poi è successo quella volta lì e poi più perché sennò gliene tornano indietro cinque non più uno cinque gliene tornano indietro con tutto il bene che voglia sto ragazzo però basta perché mi ha piegato in due quella volta mi ha veramente mi ha veramente fatto capire che a volte questo tipo di violenza su un amico a cui tieni a volte fa bene a volte un pugno in più ti fa aprire gli occhi e ti fa capire se quella persona che hai davanti può essere realmente considerata amico e non un semplice conoscente che ti guarda fare la strada prende la strada sbagliata però ti lascia lì non cerca di correggerti o se prova a correggerti dice dai basta non lo fare ti fa male cosa che mi dice anche mia madre anche solo se fumo una sigaretta mia madre dice dai basta fa male però mai ha perso le speranze lui non ha mai perso le speranze neanche nel momento più difficile lui è sempre rimasto lì e mi ha sempre tenuto testa ha rischiato la vita a volte lo ammetto però è sempre adesso è ancora vivo sta bene guarda che bello che è cioè è senso è senso vuol dire vuol dire che non mi sono mai ribellato quindi per fortuna per fortuna che esistono i veri amici quando si trovano e quando si trovano penso che bisogna tenerseli veramente stretti perché trovare un vero amico io oggi ora come ora è difficile e io aver trovato samu ringrazio veramente dio che mi ha dato una mano a trovare lui in un momento difficile come ho passato avere una spalla su cui poter piangere ogni tanto anche se non mi vedeva perché come ho detto non mi faccio vedere piangere era solo per modo di dire lui lui c'era lui era sempre lì sempre quindi lo ringrazierò se io nonostante nonostante abbia visto questa parte di lui nonostante abbia potuto rischiare il tutto l'avrei rifatto l'avrei rifatto tutte le volte perché sapevo che quello poteva essere un punto di svolta per lui vedere qualcuno rischiava per lui qualche un po di coraggio per lui per dire smettila io ti posso vedere in un modo migliore guardati anche tu in questo modo secondo me gli ha fatto cambiare il suo punto di vista e l'ha fatto ragionare sul fatto di posso farlo se lui vede che io ce la faccio posso farcela come lui ha fatto con me perché io le prime volte facevo veramente schifo a fare musica io non andavo a tempo non riuscivo a mettere a tempo il mio testo non sapevo neanche cosa fossero barre perché ho sempre scritto poesie lui ha visto qualcosa in me che io non vedevo e io ci ho creduto in lui e lui in quel momento ha saputo ha capito che io vedevo in lui qualcosa che lui non riusciva a vedere come lui riusciva a vedere qualcosa in me è stato il fatto di aver trovato dopo tanto tempo qualcuno che mi mi desse fiducia capito nel senso mi dava la possibilità di dimostrare qualcosa e dimostrare quanto quanto ero in grado di dare lui è riuscito a darmi questa possibilità e io ho sempre cercato di non deluderlo poi ovviamente i passi falsi si possono commettere però l'importante è riuscire ad ammetterli e andare avanti e cercare di migliorare dove si è caduti e lui ha avuto tanta pazienza nel rimanere lì anche in quei momenti nonostante fosse stato un po difficile come cosa però è sempre rimasto lì davvero quindi il fatto di aiutarlo anche con la musica penso che sia stata la cosa più bella di questo mondo però lui ha avuto molto più fortuna di me molta più fortuna anzi a volte ti dico la verità sono invidioso per il semplice fatto che io mi sono dovuto formare da solo creare da solo farmi il mazzo così da solo quindi arrivare arrivare a un punto veramente di depressione totale perché non sapevo più come muovermi perché la musica mi piaceva farla ma non sapevo come farla cioè lui invece arriva bello beato come il sole a voglio fare musica mi insegni è io che gli vado a insegnare cioè nel senso sono stato il maestro ho visto i miglioramenti ma cavolo io mi sono fatto il mazzo detta come va detta lui invece ha avuto chi gli spiegava le cose cioè adesso che sta ottenendo molti più a volte più risultati di me che lo faccio da molto più tempo io ho iniziato a scrivere che avevo 13 anni a fare musica ne avevo 16 lui è partito a vent'anni boh voglio fare musica facciamo musica insegnami cioè per un attimo ero il sensei di karate kid no metti la cera togli la cera lui lo faceva e diventava bravo c'è un motivo se abbiamo chiamato lo studio katana club studio sì vabbè anche quello però c'è quando ha preso il via ha detto mi ha insegnato ha chiuso due rime è riuscito a chiudere due rime e a fare un testo discreto non decente discreto boh facciamolo facciamo uno studio insieme dai mettiamoci in società facciamo guardiamoci una mano insegnami allora io ho detto vabbè dai proviamo proviamo vediamo come va poi vanno a sopportare sei ore in studio sei ore in studio continuate che canta o fammi fare questa fammi fare quella fammi parco la madonna ero diventato il babysitter non più il tutor per la musica il babysitter ti giuro eccolo però babysitter va bene però però alla fine alla fine dei conti davo una mano a lui per quello lui faceva il babysitter con me su altri aspetti quindi da una parte è stato una cosa reciproca quindi ci siamo aiutati a vicenda questa questa è una bellissima cosa mi ci vuoi raccontare quella cosa che ti è venuto con da fare con i ragazzi o che vi è venuta l'idea l'idea allora ti dico la verità l'idea è nata da draco perché io detta sinceramente quella sera lì dove finita la serata non ancora non ci volevo credere nel senso c'è per me era una cosa che veramente mi aveva lasciato talmente emozionato che non avevo parole samu beato bello come il sole arriva sul giorno dopo c'ho un'idea in realtà in realtà la sera mentre andava in macchina sì vabbè ma fa sai che ho un'idea e io che idea ti è venuta mi fa ma perché non facciamo magari che possiamo provare a chiedere se si organizza un incontro con i ragazzi per insegnarli un po' il come nasce una canzone come si scrive una canzone e soprattutto con l'idea di voler dare la possibilità ai ragazzi più piccoli ragazzi più giovani tramite questo appunto il metodo appunto della musica questa questa cosa qua di voler scrivere almeno quello che provano no dar modo loro di poter mettere su carta quelli che sono le loro emozioni perché sappiamo tutti quanti quanto in quel momento in certi momenti della della sua crescita comunque adolescenziali no si passano quei momenti difficili quei momenti dove sai c'è il primo amore e ti lascia la ragazza e vai litigare con un amico e la mamma ti dice su perché hai fumato una canna e il papà ti dice su perché torni a casa che sei ubriaco e il giorno dopo e il giorno dopo sei depresso non ci capisci niente ti fa la ramanzina e tu dici sì sì ho capito in realtà non hai capito niente dici che palle statemi su di dosso no e dici ma perché scusa in questo modo non puoi far scrivere delle canzoni a quei ragazzi che un giorno diventerà passeranno questo tipo di avventure e raccontano il loro punto di vista perché una una sbronza vista da me ha un certo senso un certo un certo modo di viverla vista da Samu ne ha un'altra vista da magari da Sandro ne ha un'altra c'hai capito ognuno può raccontare la sua ma non solo per quello ovviamente nel senso questo è per ridere ma dietro c'è anche il senso di voler dar modo a quei ragazzi che molte volte tu che hai davanti non li conosci no fondamentalmente non sei niente della loro vita privata e ci sono quei ragazzi che già appunto all'età dei 13 14 anni stanno vivendo all'interno di casa loro delle situazioni difficili come ha vissuto magari Samu la separazione dei genitori della confusione in testa che non sai più dove andare a mettere le mani perché andresti a fare più casino che altro i giudizi delle persone se tu hai un modo per sfogarti o far arrivare magari a diretti interessati le tue parole i tuoi pensieri tramite la musica è la cosa più bella di questo mondo perché in primis ti posso assicurare che la musica è quasi come uno psicologo per me è come un po' scrivere un diario però sai che dall'altra parte tu hai un foglio che è pronto ad ascoltarti no? è un po' come sì quello psicologo che ti ascolta ma senza mai dire niente e per me è tipo un diario dei segreti è un diario dei segreti che per questi ragazzini sarebbe secondo me veramente una cosa molto importante poter esprimere i loro sentimenti le loro emozioni tramite la musica perché come ha aiutato me in determinate situazioni ha aiutato Samu ad esprimersi in determinate situazioni può farlo anche con loro evitando magari che queste persone possano arrivare che ne so ad avere delle crisi delle vere e proprie crisi attacchi di panico a volte che ci possono stare per non essere capiti a non essere capiti perché fondamentalmente tu stai dando voce a te stesso hai capito? stai parlando con te stesso quindi è anche un viaggio introspettivo perché tu vai a scavare dentro di te tutto quello che sono le tue emozioni ma non devi avere filtri nella scrittura deve essere una cosa che tu quello che pensi quello che provi lo scrivi perché se tu te lo tieni dentro e lo vuoi mettere giù con termini molto curati molto precisi è come mettere un preservativo sulla penna cioè nel senso hai capito? è come mettersi un preservativo in testa e poi iniziare a parlare non fai uscire un bel niente cioè mi sto trattenendo scusate ma mi devo trattenere ma è come mettere un preservativo su una penna quindi tu stai filtrando tutto quello che provi e la musica non deve avere filtri se tu sei arrabbiato detto come va detto in maniera tranquilla di che sei arrabbiato se ce l'hai con qualcuno non fare nomi altrimenti poi ti denunciano ma cavolo fai capire se uno ti ascolta e sa che quella canzone dedicata a lui che è un mongolo detto come va detta senza offesa però cavolo almeno gli arriva e capisce poi se c'ha la coda di paglia si arrabbia però se non si arrabbia vuol dire allora che è stupido però nel senso arrivi arrivi a quelle persone cioè vuoi arrivare a una determinata cosa la musica è l'unico mezzo cioè poi lo fai in maniera anche divertente con gli amici poi parto le sfide di freestyle con le battute ignoranti dove ci si offende tra amici ci si offende la sorella e la mamma in cui non ne chiude neanche una in cui non ne chiude una però ci si mette a ridere è bellissimo è bellissimo quindi dare modo a questi ragazzi di imparare un po' che cosa c'è dietro una canzone per me è fondamentale perché magari un giorno poi quando si trovano a scegliere l'indirizzo della scuola superiore invece che scegliere un liceo classico scelgono magari un liceo musicale uno dei tanti magari indiritti che ci sono adesso un liceo artistico addirittura un liceo artistico senza scendere sulla musica se non vuoi fare una forma d'arte come la musica c'hai i dipinti, l'arte, il disegno hai capito? oppure la danza è un'altra arte un altro modo di esprimere la propria arte cioè ci sono tanti modi però quello che vogliamo fare noi è dare una mano a questi ragazzi a esprimersi e a non tenersi le cose dentro perché tenersi le cose dentro prima o poi come per i bambini anche per i grandi arrivi a un punto dove implodi cioè esplodi dentro proprio o inizi a piangere dal nulla o inizi ad essere arrogante con qualcuno che non c'entra niente perché hai delle cose arretrate che ti sei tenuto dentro delle cose che ti mangiano ma se riesci a buttarle fuori o comunque a parlare, a dialogare con qualcuno è una cosa che veramente ti aiuta ti aiuta in tante situazioni che può essere il bullismo nelle scuole ti può aiutare in quelle situazioni in cui sono le tue prime esperienze a parlare con i tuoi genitori quindi ad aprirti e raccontarti a loro ad avere un dialogo con le persone più grandi di te che possono capirti cioè è utile in tutti gli aspetti quindi per noi fare questa cosa sarebbe la cosa più bella e soprattutto realizzare anche una canzone dove all'interno di questa mi sarebbe piaciuto includere un coro fatto da questi bambini perché hanno cantato una volta e con l'aiuto del maestro di canto potrebbero cantare la seconda volta però stavolta è una cosa ufficiale che rimane e che tutti potrebbero ascoltare sai, per un bambino secondo me entrare a far parte di un progetto musicale cavolo, li fa sentire gasati dici cavolo, sono comparso all'interno del singolo di questo ragazzo qua magari non sono nessuno però magari quelle quattro persone che mi ascoltano sentono anche la voce di questi altri bambini quindi li fa sentire importanti su questo aspetto secondo me deve essere bellissimo deve essere davvero bello ed è emozionante anche per i bambini e per i genitori soprattutto poi si vedranno mamme che piangono papà che piangono perché i loro figli cantano che bello poi diventano tutti maestri di musica sai che figata sarebbe bellissimo io trovo che sia una bellissima idea ma che soprattutto sia bello vedere come una persona che ha avuto la tua storia alle spalle che penso sia per chiunque qualcosa di veramente difficile da affrontare e nonostante tutto questo tu abbia trovato prima di tutto nell'arte nella musica una forma espressiva ma anche una grandissima umanità traspare da te una grande gioia una grande voglia di condividere di coinvolgere i bambini di dare agli altri e si può dire che tu sei uno di quelli a cui è stato più tolto che dato perlomeno nella tua storia e penso che nella mia storia mi è stato tolto subito però mi è stata data per fortuna dopo una grandissima famiglia alle spalle che mi ha cresciuto quindi io da una parte ho perso ma dall'altra ho guadagnato una famiglia con delle sorelle dei genitori che io veramente morirei per loro io se ho deciso di fare un cambiamento nella mia vita è dovuto anche a loro che sono stati lì e mi hanno sopportato in tanti aspetti in tanti lati del mio carattere che purtroppo ho avuto tutto qua beh diciamo che comunque tu sei una persona che è in grado di guardare il lato positivo della realtà e di lavorare perché questo possa crescere evolvere senza focalizzarsi invece sulle problematiche che indubbiamente hai avuto e questo credo sia un grandissimo insegnamento oggi per tutti quelli che ci ascoltano perché ognuno vive un momento storico complicato per le ragioni che tutti conosciamo però c'è chi si focalizza solo su questo e c'è invece chi riesce a spostare il focus e acquista molta più forza molta più energia e capacità anche di creare nuova realtà tu sei la prova fisica e questo è possibile e diciamo che è l'unico modo per poter andare avanti capisci cioè rinchiudersi in se stessi e focalizzarsi sul problema alla fine dei conti non fa non fa nient'altro che alimentarlo quel problema tu devi sforzarti ad essere in grado di vedere anche se avanti di un centimetro tu devi guardare avanti anche se solo un centimetro perché quel centimetro è sempre qualcosa in più rispetto a prima e da un piccolo passo piano piano riesci ad andare avanti ma se tu pensi subito di partire di fare passi da gigante quando ancora non sai nemmeno camminare non puoi pretendere di di creare qualcosa di fatto bene così con la musica così come nella vita si sbaglia si impara si continua a cadere si continua a rialzarsi però non stai giù si guarda il lato positivo per poter continuare ad andare avanti perché devo andare avanti non cavolo sono caduto rimango qua mi piace stare così questa è la mia vita no se hai una vita che fa cagare prova a realizzare qualcosa di diverso cioè detta come va detta scusate mi parte un attimo il dialogo molto diretto ma se c'hai una vita che non ti piace e fai qualcosa per cambiarla hai un sogno prova a realizzare quel sogno hai qualcosa che ti piace fare ma sei limitato da determinate cose focalizza il focus su qualcos'altro guarda come arrivare al tuo obiettivo facendo magari un giro più lungo e non prendere la strada diretta magari fai meno fatica è un po' più lunga ma fai meno fatica però forse ci arrivi piuttosto che dire ah così non ci riesco comodo dire c'è quella strada là ma è lunga no allora vuol dire che non ti prema abbastanza se hai voglia di fare qualcosa lo fai io pensavo di non riuscire mai ad arrivare a 15 milioni 15 milioni buongiorno 15 mila visualizzazioni in quella canzone arriverai a 15 milioni è questo lapsus 15 milioni è stata un po' un'assagerazione però vabbè arriverai a 15 mila visualizzazioni io non avrei mai pensato di arrivarci ci sono arrivato ma grazie all'aiuto di tante persone però il fatto di voler realizzare questo progetto quando mi è venuto in mente di volerlo fare ci credevo e ci ho creduto fino alla fine nonostante gli alti e bassi che ci sono stati però ci ho creduto ero arrivato a un punto che volevo dire non la pubblico nemmeno perché ho paura non so come finirla non so se piacerà alle persone però è stato proprio il fatto di dire non so se piacerà alle persone che mi bloccava hai capito il fatto di pensare prima cosa potessero pensare gli altri di me quando puoi inizi a capire che quello che pensano gli altri ti deve importare relativamente solo se è costruttivo te ne devi importare ma delle critiche se sono costruttive ok ma se non sono costruttive la gente ti critica tanto per dare aria alla bocca lasciale stare e vai avanti sembra una frase fatta e rifatta detta e ridetta ma cavolo è vero l'ho provato sulla mia pelle non pensavo di arrivare a 15.000 visualizzazioni io che ero abituato a farne sì e no mille in un anno a fare le mie canzoni non riuscivo a pubblicizzarmi come dovevo sono riuscito ad arrivare a questo cioè per me è stato un enorme passo in avanti adesso spero che le persone mi ascoltino non solo per la storia che ho dietro ma anche perché piace come faccio musica e per come sono come persona io perché quello che scrive Naga che scrive fondamentalmente non è nient'altro che la persona riflessa allo specchio di Nick cioè e basta io racconto quello che vivo io non è che ho bisogno di crearmi un personaggio che è quello strafottente quello arrogante perché non rispecchi a me non dovrei fare quello che c'ha le collane quello tutto tatuato in faccia sì e poi e poi cosa cosa concludo niente no se alla fine dei conti sono un bugiardo in quello che dico in quello che faccio racconto delle storie tanto perché voglio fare il figo voglio fare il gangster no come succede ora se tu racconti di quello che hai vissuto la gente lo percepisce ed è proprio lì che devi cercare di continuare ad andare avanti e continuare ad acquistare sempre più fiducia nei loro confronti cioè devono fidarsi di quello che stai dicendo devi avere credibilità perché se uno che è appena uscito dalla cameretta e giocava con la playstation fino a ieri mi viene a dire che ha visto le pistole le strade le coltellate e ti guarda in faccia e inizia a ridere l'hai vista nei videogame a cui giocavi non è che le hai visti per strada se invece me lo racconta uno che magari l'ha visto o magari capisci magari lo conosci cerchi un po' la sua biografia qual è io ci credo io ci credo e credo a quello che mi dice hai capito ma se non hai credibilità vai poco lontano a mio parere poi ognuno c'è il suo punto di vista ognuno si crea il suo personaggio con quello che vuole nella vita come nella musica devi credere in te stesso prima di tutto credere nei mezzi nelle tue capacità e soprattutto non devi aver paura di metterti a nudo di far vedere le tue debolezze di far vedere quanto puoi essere fragile di quanto lo sei stato di quanto hai sofferto o di quanto anche gioirai un giorno però devi devi essere te stesso devi essere reale se hai vissuto una cosa la devi mostrare per com'è non la devi dimostrare come per dire non ho mai avuto paura che i miei mi pensassero male no io ho avuto paura che i miei genitori mi reputassero l'errore e lo dico penso alcune cose le dico possono farmi vedere come quello che è fragile che ha sofferto che piange che ha paura sì lo sono per questo lo scrivo e per questo lo canto questo deve essere non deve essere finzione deve essere raccontarsi raccontare una storia vera che possa essere d'aiuto da altre persone questo deve essere la musica un esempio un esempio che ti possa aiutare a migliorarti scusate posso intervenire io vorrei chiedere un favore a Naga ecco dimmi tutto se riesci a chiedere a tuo pa Federico di venire a parlare della sua esperienza per sensibilizzare più genitori possibili a riguardo di certi argomenti e te lo chiedo come fosse un favore personale guarda non vorrei dire non vorrei dirne acavolata ma secondo me da quando ho condiviso il link o tutto quanto è molto probabile che sia collegato anche lui non vorrei dirne acavolata spero venga a condividere la sua esperienza qui con noi per sensibilizzare più persone possibile adesso faccio il pippotto se mi permettete il pippotto è il discorso lungo non è un discorso lungo non è un discorso no no ok scusa scusa non è quello non è il pippotto che pensi tu no no è che mi hai preso un po' la sprovvista è che mi viene mi salto su col pippotto ho detto che ci fa pensare subito all'insalatina da metterne la sigaretta no allora noi stiamo portando avanti una battaglia contro gli sciacalli che ci sono oggi ci sono gruppi che purtroppo hanno preso di mira l'homeschooling perché sono proprio delle persone che si vendono come homeschooler come formatori che invece hanno un altro progetto dietro hanno un progetto di utilizzare determinate cose determinate scemenze che loro hanno in mente per fare in modo che i ragazzini finiscano i bambini finiscano ancora una volta nelle mani dei servizi sociali stiamo distanti da questi gruppi ci sono persone che fanno homeschooling compreso Sandro che fanno solo quello fanno homeschooling non propongono altre stronzate dentro nel loro contenitore cerchiamo di andare in quelle associazioni in quei gruppi con quelle persone che parlano esclusivamente di homeschooling e basta che non fanno politica che non propongono soluzioni fantasiose che non vi chiedono di cancellare i figli dall'anagrafe scolastica perché questo provoca un punto di rottura che vi porta ai servizi sociali a un giudice e correte il rischio che il vostro figlio vi venga tolto e messo in mano i servizi sociali stiamo distanti da queste persone ho finito era un pippotto corto micro pippotto io posso aggiungere una cosa che Naga la dracco e anche la ragazza di Naga quella sera il 30 settembre erano lì presenti hanno visto proprio il gruppo dell'associazione hanno visto i genitori li hanno conosciuti hanno praticamente fatto diciamo la cena il dopo cena insieme hanno visto i ragazzi chi sono i bambini quali sono gli insegnanti quali sono perché c'era c'erano due barra forse tre insegnanti presenti che si sono messi a disposizione proprio per questa associazione che è un'associazione molto semplice non profit è stata creata per le esigenze di genitori esigenze anche degli insegnanti esigenze anche per quanto riguarda i bambini e i ragazzi quindi una cosa molto molto bella che è stata costruita adesso anche insomma Naga e Draco l'hanno conosciuta e penso che sia una cosa più che più che bella almeno io ho questa percezione della nostra associazione no no era era molto cioè strutturata molto bene c'era un bellissimo ambiente anche vedere bambini di diverse età riuscire a coesistere spesso i bambini vengono divisi per classi e spesso le classi non vanno mai molto d'accordo perché dicono tu sei indietro rispetto a me tu sei tu sei meno tu sei una classe indietro tu sei più piccolo o addirittura i bambini piccoli che guardano quelli grandi dicono non vedo l'ora di arrivare ad essere quello erano tutti insieme ognuno dava una mano all'altro magari c'era un bambino che non riusciva a tagliare il panino per metterci dentro l'affettato e c'era quello più grande che lo aiutava sono bellissime scene che non si vedono tutti i giorni e che ne vengano altre di queste associazioni fatte in questo modo e con questo spirito devo dire che è una gran bella associazione e rivedo tutto quello che è nel mio intento trasmettere quindi coesione non episodi di razzismo anche minimi di dire età quindi tanto di cappello nell'epoca della separazione massima in cui tutti devono stare lontani e mascherati la coesione è l'antidone è una è una parola strana il giorno d'oggi esatto va bene ragazzi io direi che abbiamo fatto le undici e mezza quasi quindi possiamo anche salutarci ma io vorrei ringraziarvi tantissimo sia per essere stati con noi sia per la vostra bella energia vi faccio un grande grandissimo in bocca al lupo perché possiate realizzare i vostri sogni e il vostro successo che meritate entrambi invito tutti nei link in descrizione ad andare a sentire i brani vostri e a seguirvi sui vari social profili eccetera eccetera e comunque di seguire discoverit.cloud dove continueremo insieme ad altri artisti italiani a promuovervi perché poi nel vostro caso siamo anche legati a voi da una sorta di amicizia quindi ovviamente ci teniamo particolarmente ma in realtà teniamo a tutti quelli che hanno qualcosa da dire da esprimere e che non vogliono sottostare ai giochi di potere e politici che ci sono anche nel mondo dell'arte perché l'arte è tutt'altro che un'area libera di espressione anzi di solito chi diventa famoso si è asserdito al potere e questo è una brutta verità che noi cerchiamo a nostro modo di combattere io con il permesso degli autori manderei in coda il loro brano veleno sì se gli va bene certo certo ok Eleonora scusami vai io chiedo a tutti di chiudere i microfoni tranne te così almeno non facciamo interferenza sul brano e intanto saluto tutti grazie a tutti grazie Naga grazie Bracco grazie Sandro grazie Eleonora e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato il bello della diretta un attimo di pazienza possiamo farcela concentratevi focalizzate è probabilmente più difficile del previsto ha il microfono chiuso Veleno ha il microfono chiuso ha solo in radio non possiamo metterla anche qui grazie grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Non era preparata, è stata un'improvvisata e non sempre le improvvisate riescono col buco. Buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Buonanotte.